ciao a tutti amici itano tv per voi allora eccomi ancora qua pronto per stare in vostra compagnia oggi ci sarà un'esclusiva sì avete proprio capito bene come vedete qui a fianco a me nel mio schermo ci sono due persone sì proprio loro i zengavò che stanno aspettando di essere intervistati ricorda metti un like iscriviti al canale tano tv attiva la campanella per vedere i nuovi video appena escono rieccoci qua amici miei allora come vedete qui a fianco nel monitor ci sono in collegamento andrea e rosalinda ben trovati adesso faremo delle domande ai nostri piccioncini allora voglio fare una domanda particolare a tutte e due voglio che mi rispondiate cos'è la gelosia ma diciamo che non c'è il penso di essere geloso il giusto quindi ci sono ovviamente delle cose le piccole mari frecciatine che tiro quando magari sto sui social così però non mi ha neanche mai dato modo di essere geloso altra domanda molto molto bella vi piace stare a milano a me milano piace molto anche a me piace poi sta piovendo anche poco quindi stiamo vivendo col sole che è incredibile ma vero quindi poi io da siciliana se non vedo il sole niente parliamo del vostro lavoro invece io lavoro come agente immobiliare televisione l'unica parte dove mi vedo è l'ambito sportivo anche lo sport quindi diciamo che il settore sport mi piace in tutto e quello lo sai fare anche bene speriamo no sì invece adesso voglio fare una domanda proprio a rosalinda ascolta rosalinda ma quali sono i tuoi progetti io in realtà tanti spero di riuscire a concluderne qualcuno però comunque studiare canto cosa che sto già facendo perché mi piacerebbe fare dei musical quindi il mio obiettivo più grande è quello però come lui parallelamente comunque continuare gli studi io studio teologia quindi finire e ultimare gli studi e perché no magari insegnare ai bambini religione ovviamente invece il cinema ti manca? il cinema mi mancano i riflettori puntati addosso la macchina da presa quella mi manca e chissà vedremo altra domanda molto toccante vi voglio fare matrimonio però sì per il futuro sì ma in futuro sicuramente siamo due persone che comunque se decidono di intraprendere una relazione perché fanno le cose seriamente e quindi seriamente stiamo insieme e speriamo che la cosa duri sicuramente ci sono tutti i presupposti speriamo che sia la volta buona invece Andrea voglio capire come hai capito che rosalinda era la donna per te ma per quanto mi riguarda che è quella giusta con cui comunque diciamo che l'ho capito nel tempo soprattutto fuori perché comunque noi al grande fratello abbiamo cominciato ci siamo avvicinati molto e ci siamo baciati diciamo una settimana prima che io uscissi quindi le conferme le ho avute fuori giorno per giorno e ogni giorno mi convincevo sempre di più che comunque ci stavo bene che c'era un sentimento importante come l'amore quindi è stato fuori io le conferme vere le ho avute le ho avute fuori idem anche per me la vera prova del 9 è stata la convivenza fuori dalla casa del GF questi mesi appunto passati insieme quasi H24 praticamente H24 ci sta eh magari la domenica alle 3 quando gioca l'Inter e basta per l'Inter guarda non c'è non c'è Rosalinda bene siete simpaticissimi io vi ringrazio di essere stati qui con me bene amici miei siamo arrivati alla fine del video io come sempre vi ricordo di non mancare al prossimo appuntamento e di esserci sempre perché se volete sapere le novità dei nostri Zengabo questo è il canale giusto per voi noi ci vediamo molto presto da Tano TV e di esserci sempre per voi